ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi parliamo del bonus pack 3 per assetto rilasciato da kuno simulazioni quest'oggi questo bonus comprende ben sette autovetture tutte praticamente originarie dall'italia e un tracciato in più in omaggio il laguna sega mazda raceway cosa direi questo bonus pack che sicuramente il regalo che offre la kuno simulazioni quindi marco massalut e tutto il suo team per ringraziare la fedeltà della comunità che li segue ormai dal 2013-2014 quando è uscita la pre alfa di assetto corsa le auto presenti sono l'alfa romeo 33 stradale la alfa giulia quadrifoglio la lamborghini sesto elemento la maserata alfieri che è uscita per il centenario appunto della marca maserati e la pagani waira bc mi sembra si dice waira bc ragazzi io ci ho giocato un attimino così rapidamente appena scaricato sono circa 668 mega come aggiornamento qualche correzione in questa versione 1.16 di assetto corsa qualitativamente sono spettacolari queste automobili il circuito dovrebbe essere anch'esso in laser scan quindi la qualità è a rendezvous come si dice onestamente ragazzi per un bonus pack gratuito le auto sono veramente grandiose io le ho provate tutte così sommariamente ma quella che mi ha colpito veramente di più è la pagani ragazzi la pagani waira 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 bc che è un mostro l'interno è spettacolare il rombo è spettacolare le performance sono da pagani davvero una macchina molto molto interessante e in termini di audio senza ombra di dubbio la maserati con questo ritorno di sfiamma questo borbottamento questa maserati del centenario questa alfieri vi consiglio assolutamente di provarla dove c'è un cavalcavia ne trovate su laguna sega che poi è gratuitamente in questo bonus pack che è tutto gratuito onestamente il comparto sonoro anche qui è stato curato in modo davvero miticoloso quindi ragazzi era rapidamente per parlarvi e fare una carrellata di questo bonus pack 3 che kunos ci regala per assetto corsa appunto per ringraziare tutti i fedeli della comunità di assetto corsa cercherò di fare qualche video gameplay con magari in realtà virtuale per apprezzare i dettagli grafici di questi bolidi che ci hanno offerto io vi consiglio assolutamente di scaricarlo perché è gratuito sono 668 mega e poi si passa alla versione 1.16 di assetto corsa con alcune correzioni minori io ragazzi vi invito a lasciarmi un commento se avete testato le auto per dirmi cosa ne pensate se non l'avete fatto iscrivetevi tanto è gratuito lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto anche se oggi è cortino io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito ci vediamo alla prossima da Fabrice è tutto ciao